Alterini, croci scritte bibliche sui sassi e questa la misteriosa situazione che si è venuta a creare lungo le sponde della fiume Arno. Ci troviamo a Buon Riposo, a pochi chilometri da Arezzo. Il tutto è apparso alcune settimane fa. I primi a segnalare la presenza delle strane opere sono stati alcuni adolescenti che frequentano la spiaggetta lungo l'Arno. Abbiamo iniziato a trovare queste croci, queste pile di sassi, questi uomini di pietra, penso sia il termine giusto, con delle strane scritte. Per cui ci risulta difficile capire queste cose che ci restano alquanto inquietanti. Nella zona inoltre si aggira anche un uomo, un santone di mezza età, autore delle misteriose opere che allontanerebbe in malo modo chiunque si avvicini troppo ai suoi altari e alle sue croci. Non ama socializzare molto con la gente del posto, specie i bambini, fa di tutto per farli correre via. Per cui ho reso pubblica questa cosa nella speranza che si riuscisse a dargli un senso. Anche perché un po' vi preoccupa? Sì, preoccupa le mamme che magari dicono ai bimbi di non venire giù a giocare lungo l'Arno, perché oggi in tv se ne sente tante. Non vorrei che questo caso qui fosse uno di quei tanti. La misteriosa vicenda che ovviamente preoccupa i residenti della zona è stata segnalata alle forze dell'ordine. Vorrei quantomeno dare un senso a tutto questo. Ecco.